Atterrato un elicottero dei carabinieri in Alta Valmarecchia non si è trattata di un'emergenza ma di una normale operazione effettuata oggi, domenica 6 giugno, nel nuovo territorio da poco passato in provincia di Rimini, dove i militari hanno effettuato dei controlli programmati in regione. L'arma infatti mette a disposizione delle compagnie il velivolo per un migliore pattugliamento nell'area riminese. La sua presenza si è fatta immediatamente notare dai passanti, qualcuno si è anche chiesto se fosse avvenuto qualcosa di grave. Fortunatamente non era così, i militari si sono soltanto limitati dalle 16 in poi ad effettuare dei controlli agli automobilisti in transito. L'elicottero è atterrato nel prato dell'ex campo sportivo del fiume Nova Feltria nella zona della ciclabile e ripartito poco dopo una breve sosta. L'elicottero è atterrato nel prato dell'ex campo sportivo del fiume Nova Feltria nella zona della città.